bene come vedete dall'immagine di copertina del video al cogan è tornato nella nottata italiana smackdown ha avuto un batti becco con il campione universale bray wyatt bray wyatt addirittura gli ha rivolto l'invito a bray wyatt a venire nella cerimonia della sala della gloria dell'alo feimer chissà se bray wyatt risponderà davvero a questo invito inoltre la sfida titolata per la cindura femminile dello show blu tra beli e carmela è finito in maniera un po rocambolesca con la vittoria di beli ma comunque si cerca un po di vedere quale sarà effettivamente l'avversaria di beli ma no a smackdown a super showdown dovrebbe essere una tra carmela o naomi o chissà magari addirittura un triple treat saremo a vedere inoltre è stato ufficializzato già il primo match per la prossima puntata di raw del 17 febbraio ovvero randy orton andrà a sfidare ma tardi in un no holds barred match dopo i fatti accaduti nell'ultima puntata dello show rosso no holds barred match che è un match dove credo gli schienamenti valgano ovunque quindi mazzate a non finire ma la cosa più importante di questo video appunto che è tornato sugli schermi da wwe al kogan ciao a tutti